Musica 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 Mariko Mariko A civilizacjonal? Witajcie serdecznie jesteśmy u RAPL na bazie Dwie osoby do otuszczenia szczypów programu Osiem cywilizacji przybyło Przeglądać się zaczynamy Pierwszą jest Madeleine Chantal Hasło Marzena I następna jest Katarzyna Krzysztofa Hasło Katarina Przekazany wizerunek Madlen M A D L D L D N I N Chantal C H C H A N T A N T A L Ok Gut Das is Blau Fioleta Planeta Niebiesko-fioletowa Planeta Sie ukazała Jedna cywilizacja Tam doświadcza Wszystko doświadczają Negatywne Pozytywne Neutralne Ukazała się Na stole kryształowym Już i jeszcze Pięć galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej Mocno zniszczona ochrona planetarna o połowę spłynęła z tej istoty Ok, gut Auf der rechte seite am Gehirn hat sen quadratischer Quadratowy Czyp z prawie strony mózgu ściągnięty Aktywny Stres i problemy Stwarza Sześciokonny Czyp ściągnięty Aktywny I stwarza depresję ten program Okrągły Czyp ściągnięty Program zaczął się walczyć Potrzymuje zmiany genetyczne Quadratowy Czyp ściągnięty Aktywny I stwarza stany lękowe Quadratowy Czyp po lewej stronie mózgu Nie jest aktywny Owalny Czyp Aktywny I stwarza bóle głowy I stwarza bóle głowy Okrągły Czyp między uszami ściągnięty Okrągły Czyp między uszami ściągnięty Nie jest aktywny Okrągły Czyp w prawym oczu dole ściągnięty Jest aktiony I osłabia wzrok Mund Trójkąc podniebienia ściągnięty è attivo, ha un sistema immunologico, tra le braccia, non è attivo, c'è una motta, c'è una stuola che siunga la musculatura in lago e il ruttore e siunga la musculatura in lago e il ruttore la mano a l'altra mano è l'ovale l'ovale, l'ovale, l'ovale siunga Il programma ruchomale è giocato le relazioni interiore. Il corpo è libero, la lunga è libera è libera. Il corpo è libero, la lunga è libera. Il corpo è libero, il corpo è libero. Il programma è libero. Il corpo è libero, il corpo è libero. Il corpo è libero, la lunga è libera. Il corpo è libero, il corpo è libero. Cosa! Ovalo che bordo con la righte l'uoda, non è attivo. Niente. Noi non sono attivo, non sono attivo, non ho nessuno. Do stupo il psychico non c'è nulla. Raffaele faccia un'auto. Poi che ho fatto ancora, adesso vediamo la aura. La aura ha a pretta a l'arra per l'arra, a l'arra, in un'altra parte. E' un'attacco appartamento. Raffaele attraverà l'attacco. Un'attacco è stato stato sostenuto, è stato stato otquanto. Il ottore è stato otquanto. Raffaele laserebbe un'attacco. E'attacco appartamento dell'attacco. E'attacco appartamento. E'attacco appartamento dell'attacco. Siedi a la stola, è molto in emozione. A Gesù si parla, si 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 stabilizza. è una energia positiva è stata una energia di questa persona è stata stata fermata e le informazioni che Gesù ha messo è stata da un'azzo e si accadeva a tutti i segnali si è in portale ci siamo prossimi la persona che è stato un'azzo e la prossima è Katarzyna Krzysztofa Simone ha scritto il viso. KAT, ARZ, YNA, KRZ, YSZ, TOFA. Laی band出 hiszla. Pitäts forever saw %,носi kФ twee, ұстепie t stew ұстепі із ұстепі ұztporte ұстапда ұстепедқці ұстапда «һода ұстепі ұстеп» 7 ұстеп ұстері ұстеп toштовп. No, questa è stata molto disminuosa, l'occhia planetaria spostata da questa istotica. Quadratore cibo, cibo, attraverso, stresi problemi, stasera il problema, ovale cibo, attraverso, 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 attraverso. Cibo, attraverso, 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 all'occhio èo attivo, è molto attivo, è ancora attivo, l'occhio occhi non è attivo, c'è l'occhio auto non è attivo, non è attivo, è in un quadratto, non è attivo, Il trò che è attivo e deve restare musculature nel rio. La musculatura è in grado. La due stuola sono in grado. Le stuola è in grado. La stuola è libera. La lunga è libera. anche nel lì è un piccolo ruolo, anche nel lì chiama una ruota con l'occhiamento l'occhiamento non è assolutamente sui in l'occhiamento è un quadratissimo e l'occhiamento ma il programma che stiamo daese per l'occhiamento il lavoro Il amore sono liberi, le nostre amore sono liberi, la blase non è liberi, la tr Il sistema di l'occhio per l'occhio, non è attivo. Il sistema di l'occhio è trattato, non c'è nulla. Il sistema di l'occhio è trattato, il sistema di sviluppo, il sistema di spiro il carrello, e il traccio il respiro del sangue la colonna non c'è nulla l'occhio è lato di lato lato di lato di lato il program si è iniziato e la stagione il lavoro di lato Raffaele, guarda e ancora. Ora spraudano. Aura è molto più forte. ora fa parte di compara la loro energia è una nuova la energia di sviluppare ora è completamente l'aura ora prenderà di un verano la sua protezione ha un'estimento in attenzione il modo che si sono in ciasno la loro storia e la loro storia I Bezus ha messo le informazioni. L'esha ze stołu. Podchodzi. U każdego składa podziękowanie. Żegna się. I znika portalu. Cieszymy się. Następna istota wolna od programu. Dostarcie w zdrowiu. Namaste. A ty posto. Dostarcie w zdrowiu.